Buondì, dopo aver visto un po' di proprietà sui materiali isotropi, vediamo qualcosina rapidamente sui materiali non isotropi, o cosiddetti anche anisotropi, e vedremo in particolare due esempi, due esempi di materiali che in parte, uno di questi abbiamo già visto. Un esempio di materiale anisotropo è il nostro mazzo di carte che avevamo considerato quando abbiamo parlato della simmetria materiale. Eccolo qui. Questo mazzo di carte risponde in maniera uguale alle deformazioni che tengono paralleli i piani e risponde in maniera diversa quando cercate di allungarlo, per esempio, in questo caso qua. Questo qui è un esempio di materiale che si chiama trasversalmente isotropo, perché si capisce perché perpendicolarmente al piano uno può fare più o meno quello che vuole, cioè la risposta del materiale è più o meno, scusate, la stessa. Ecco. Un altro esempio di materiale di questo tipo, molto più difficile però, in cui non si riesce a vedere bene la deformazione, è per esempio un filo elettrico. Un filo elettrico è formato da tante fibre che hanno delle caratteristiche diverse lungo la fibra o perpendicolarmente alla fibra. Ecco, questo oggetto qua però è molto più difficile da tendere o da schiacciare, è più facile da flettere, però la flessione evidenzia meno le caratteristiche meccaniche. Un altro esempio, dicevo, è quello dei cosiddetti materiali ortotropi. Ortotropo, che provate a dirlo tante volte e vedrete se riuscite a dirlo senza sbagliare, è un materiale che invece ha tre direzioni conservate e quindi sostanzialmente il gruppo che agisce su questo caso è un gruppo finito, cioè contiene solo delle simmetrie. Ci sono anche questi materiali che sono importanti perché uno di questi è un materiale ben noto, è il legno. Il legno è un materiale ortotropo perché, diciamo così, è fatto a fibre, un po' come il muscolo per esempio, no? E però ha anche una struttura circolare. Quindi vedete, se qui si vede male, forse da questa parte ci vedremo un po' meglio perché è stato tagliato, però ci sono, voi sapete che i tronchi hanno una struttura circolare e questo fa sì che ci sono in ogni punto tre assi di simmetria che vengono conservati da questo materiale. Come fa uno ad accorgersi che i materiali sono fatti così? Dipende, lo può per esempio imparare nel caso dei materiali trasversalmente isotropi, lo può imparare dal macellaio. Il macellaio, la carne del macellaio è quasi tutta carne di muscolo e quindi è un materiale trasversalmente isotropo e di fatti il macellaio sa bene che non si può tagliare la carne in una direzione qualunque, in un lungo piano qualunque. Immagino che si debba tagliare, se non sbaglio, perpendicolarmente alle fibre perché se si taglia parallelamente alle fibre questo, il materiale, diciamo così, si sfilaccia e non viene bene, dopo non si rovina, come direbbe il macellaio. Ecco, allora adesso vedremo velocemente quali sono i gruppi che stanno sotto a queste due simmetrie e da questi ci sono dei teoremi generali che dicono come deve essere fatta l'espressione del tensore degli sforzi perché anche qui si tratterà di scrivere opportuni invarianti e dopodiché ovviamente sono più complicate di quelle che abbiamo visto con i materiali isotropi, dopodiché uno è libero di scegliere all'interno di queste equazioni le formule che più gli piacciono. Vediamo un po' come funziona quindi questa questione, questi gruppi di simmetria materiale un pochino più ristretti del gruppo SO3. Ecco, definiamo il gruppo, potremmo chiamare Gt dell'isotropia trasversa, come l'insieme di tutte le Q appartenenti a SO3, tali che Q applicato a un certo vettore N, diciamo Gt di N, perché dipende da N, è uguale a N. Questi sono chiaramente, è isomorfo a SO2, cioè il gruppo delle rotazioni nel piano perché ci sono solo queste rotazioni che tengono fissa la N, una N data. N naturalmente si può pensare che sia un versore. Invece il gruppo delle trasformazioni ortotrope che invece dipende da tre direzioni mutualmente ortogonali e l'insieme delle Q appartenenti a SO3, tali che uno ha per esempio Q, scriviamola così che si fa prima, Q NK diade NK, Q trasposto è uguale a NK diade NK, cioè praticamente viene conservato la base dei tensori soltanto nella forma diagonale. Ecco, che questo è un gruppo è evidente, per esempio a G o appartengono le simmetrie attorno al piano, per esempio N1 e N2. Se io prendo il piano, facciamo N2 e N3 tanto per avere il solito ordine, se io faccio la simmetria attorno a questo piano qua, allora io posso verificare che se io, che diciamo quindi questa potrebbe essere la Q, che quindi è in un certo, è un oggetto di SO3, perché siamo in dimensione 3, cioè questa è una rotazione, non è una simmetria attraverso lo specchio. Ecco, allora rispetto a questa operazione qua, questa quantità è vera, questa identità è vera. Se io prendo ad esempio questa rotazione qua, x primo uguale meno x, y primo uguale meno y e z primo uguale a z, quindi questa è una matrice fatta così, meno 1, meno 1, 1, tutti i zeri, questa sarebbe la Q. Ecco, potete verificare che se prendete N1, di ad N1, che è per esempio questo, ecco, e gli fate Q trasposto qui e Q qua, rimane uguale a se stessa, tutti i zeri, e la stessa cosa anche per le altre. Ecco, ci sono allora due teoremi di rappresentazione delle funzioni tensoriali, per esempio invarianti rispetto a questi due gruppi. Allora, quello che riguarda il trasversalmente isotropo dice che per un materiale trasversalmente isotropo, il secondo tensore di Piola-Kirchhoff, f alla meno 1s, s sarebbe il primo, deve essere uguale a una funzione di questo tipo, s0 per l'identità. Vi ricordate che il secondo tensore di Piola-Kirchhoff dipendeva da C, più S1 per C, C è ovviamente F trasposto F, poi più S2 C quadro, e fin qui siamo nel caso isotropo. Adesso abbiamo un terzo coefficiente con N tensore N, cioè la direzione privilegiata, P, poi più un quarto coefficiente, che è N diede Cn, più Cn diede N, perché ricordate che il secondo tensore di Piola-Kirchhoff era simmetrico, e poi più un ultimo S5 Cn diede Cn. Ecco, questa è la formula più generale che uno può considerare per un materiale trasversalmente isotropo, dove i SK da 1 a 5 sono funzioni, sono funzioni scalari, isotropi, scusate, sono funzioni di, della traccia di C, della traccia di C al quadrato, della traccia di C al cubo, di N scalare Cn, e di N scalare C al quadrato, N. Ecco. E da qui chiaramente uno se ha pazienza può ricavarsi l'espressione sia di S che di T, ma che a questo punto non sono più così belle come queste, c'è solo questo che dipende soltanto da C e da N, altrimenti c'è dentro anche F. Invece per un materiale ortotropo la cosa è ancora più complicata, perché a questo punto abbiamo tre sottospazi invarianti, N1, N1, N2, N2, N3, N3. Allora a questo punto diciamo rappresentazione 2 per un materiale ortotropo. Allora il F alla meno 1, S cappello di F è ancora più complicato, perché deve essere una funzione di S1, N1, 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 N2, 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 N3, N3, N3. Però ci vogliono anche tutte le combinazioni con i C, quindi ci vuole un S4 che fa N1 di ad C N1 più C N1 di ad N1 per simmetria. e poi ci sono gli altri due, S5 analogo, S6 analogo con N2, N3. Poi ci vuole un N7 che contiene C N1 di ad N1, C N1, e poi ci sono gli altri due che corrispondono S8 e S9, che hanno C N2 di ad C N2 e C N3 di ad C N3. E naturalmente i vari S cappello K S K sono delle funzioni S cappello K del determinante di C di NK scalare C NK, K da 1 a 3, poi NK scalare C quadro NK, K da 1 a 3, e quindi in tutto sono 7. ecco, e vabbè, adesso esempi non ne facciamo, ma sono interessanti. Comunque se uno vuole modellizzare queste cose funzionano. Si può poi vedere che se uno ha un materiale iperelastico, cioè se S è uguale a una psi di F, allora nel caso, per esempio trasversalmente isotropo, uno deve aggiungere anche in questo caso degli invarianti. Quindi oltre all'invariante primo di B, ah scusate, li abbiamo chiamati I1, vero? I1 di B, I2 di B e I3 di B, uno deve aggiungere tutti i possibili, quelli che abbiamo visto poco fa, cioè N scalare C N e N scalare C al quadrato N. E basta perché? Perché N scalare C alla 0 N sarebbe N scalare N, ma questo fa 1 se N è un versore. E poi quelli tipo N scalare C alla terza N si possono esprimere tramite Hamilton-Keyley in termini di questi. Quindi alla fine gli invarianti, nel caso trasversalmente isotropo, chiamo, trasversalmente isotropo, sono questi, sono questi cinque. Ecco, per esempio, si può, se il motivo è chiaro, se io faccio, se al posto di C metto il suo trasposto, metto il suo C asterisco, diciamo così, se faccio una trasformazione, questo sarà QT C Q N e quindi scalare N e questo sarà Q N scalare C Q N. Ma se il materiale è trasversalmente isotropo, Q N è uguale a N e quindi vedete che viene N scalare C N e idem per C al quadrato. Quindi è chiaro che questi sono gli oggetti giusti che sono effettivamente degli invarianti, anche senza andare a scomodare teoremi. Però siamo nel caso iperelastico. Ecco, ora faremo l'ultimo passo, come si diceva, cioè supporremo di avere a che fare con gradienti di spostamento, cioè gradienti di U piccoli. Quindi sostanzialmente la S di F, S cappello di F, diventerà una S cappello di I più gradiente di U e vedremo che cosa dovremo fare per considerare il problema relativo al caso in cui questo gradiente di U sia in qualche modo piccolo. Storicamente non è stata l'elasticità finita, la prima teoria dell'elasticità che si è sviluppata, anzi è stata l'ultima. Inizialmente gli scienziati si sono resi conto, gli studiosi, che assumere grandi deformazioni poteva portare a dei problemi difficili. E allora sono partiti con l'idea di prendere delle deformazioni piccole, in qualche senso, così hanno sviluppato una teoria, quella dell'elasticità lineare, che ancora oggi copre almeno il 90% delle applicazioni dell'elasticità. Tutta la scienza delle costruzioni, l'ingegneria, si basa sull'elasticità lineare o linearizzata, bisognerebbe chiamare più precisamente. Ma linearizzata rispetto a cosa? Ecco, questo è meno chiaro, cercheremo di spiegarlo. Sicuramente è linearizzata rispetto al gradiente di spostamento, cioè la rapidità con cui lo spostamento varia da una parte all'altra. E non tanto lo spostamento, perché se uno, per esempio, sposta tantissimo un corpo rigido, tanto per fare un esempio estremo, lo spostamento è enorme, ma il suo gradiente di spostamento è zero, perché i punti del corpo rigido, l'uno rispetto all'altro, non si spostano, o quantomeno si spostano solo per una rotazione, quindi, diciamo così, hanno un gradiente di spostamento molto particolare. Invece, quando si allungano le quantità o si accorciano le distanze dei corpi, allora sì, si ha un gradiente di spostamento, che poi è legato anche al gradiente di deformazione, come abbiamo visto da una formula molto semplice. Quindi faremo, per prima cosa, questa operazione di linearizzazione, e poi ci vorrà qualcosa che traduca in maniera adeguata anche il concetto di indifferenza materiale, perché le leggi lineari, essendo linearizzate, hanno bisogno di una versione dell'indifferenza materiale linearizzata anch'essa, altrimenti non funziona. non è solo incoerente, ma non funziona proprio, le leggi lineari non sono materialmente indifferenti nel senso che abbiamo visto noi. E questo è un punto delicato che tante volte non si mette in evidenza. Dopodiché vedremo, come al solito, il caso isotropo, che è quello più semplice, ma in realtà poi è solo una questione di tempo. Vedremo un pochino che l'equazione che esce è un'equazione un po' più trattabile, anche se ancora molto molto ampia, diciamo così, di quelle che ci sono in elasticità non lineare. Andiamo a vedere quindi come funziona partendo proprio dalla legge costitutiva non lineare e procedendo, quindi prima della iperelasticità, e quindi procedendo alla linearizzazione. Allora, ripartiamo. adesso dalla nostra s cappello di f. E, come si diceva, sappiamo che questo è uguale a s cappello di i più gradiente di u. Quindi consideriamo gradiente di u come variabile. E facciamo lo sviluppo di Taylor di questa funzione come sappiamo fare. Quindi s cappello di f sarà uguale a s cappello dell'identità più e poi ci sarà un tensore quadruplo che indicheremo con c applicato al, diciamo così, gradiente di u e poi ci saranno degli infinitesimi di ordine superiore a gradiente di u. Ecco, allora l'elasticità lineare. Questo è un tensore quadruplo, cioè a quattro indici, c, i, g, i, j, h, k, k. Ecco, questo tensore qui è importantissimo, adesso si chiama tensore elastico. E' quello che definisce l'elasticità lineare. Però, la prima cosa che dobbiamo fare è supporre che s cappello nell'identità sia zero oppure noto. Ecco, se è noto, allora, diciamo, questo poi modifica di poco le equazioni di bilancio come vedremo dopo. Ecco, questo tensore qui, c, non è altro che il gradiente di s, cappello, calcolato nell'identità, no? Chiaramente dalla, dalla, e questo ovviamente sarebbe f-i, perché lo sviluppo di terra è fatto vicino all'identità, non vicino a zero perché zero non è neanche una deformazione ammissibile. quindi questo qui è il tensore elastico le cui componenti, diciamo, c, j, h, k, sono date dalle derivate della funzione s cappello i, j, rispetto alle, chiamiamole, xi, h, k, ecco, calcolate nell'identità. Si è la variabile di s cappello. In generale sono, potrebbero essere 81 componenti, ma però vedremo che si riducono un pochino, poi nel caso isotropo si riducono ancora di più e diventano due. Allora adesso dobbiamo vedere quali sono le proprietà di questo, di questo c, perché ci sono varie cose che si possono dire su questo c prima di fare degli esempi, degli esempi specifici. comunque diciamo che da questo punto di vista adesso s cappello di f ha un'espressione molto più semplice. Se supponiamo che s cappello nell'identità che lo sforzo residuo sia nullo, questo qua è diciamo così, per così dire, proporzionale al gradiente di U. Naturalmente questo sviluppo è tanto più buono quanto il gradiente di U è piccolo. Si tratta ovviamente di una approssimazione. Allora le proprietà più importanti del tensore elastico sono racchiuse in questo teorema qua che adesso dimostreremo con pazienza. supponiamo intanto che gli sforzi residui siano nulli. Ho una parola sui sforzi residui ancora. Dunque noi sappiamo che l'equazione sarà ρA uguale ρ0B più la divergenza di S S cappello. Allora se S di non è noto diciamo così non è 0 ma è noto io posso sempre scrivere questo come divergenza di S0 chiamiamolo così più che è una funzione di x più c applicato gradiente di u. Ecco chiaramente qui mi esce un termine divergenza di S0 che se è una funzione nota posso incorporare dentro in b quindi in ogni caso S è uguale a 0 oppure noto ecco in ogni caso se è noto si può sempre pensare che sia 0 ecco allora succede innanzitutto succede che la funzione t cappello nell'identità anche lei fa 0 e poi si hanno tre cose uno il nostro c il nostro abbraccione è uguale al gradiente di anche al gradiente di t cappello nell'identità poi quindi per ogni H appartenente a ohm di R3 simmetrica si ha che C applicato a H che è un tensore doppio è simmetrica ecco quindi C manda simmetriche insimmetriche e terza cosa più importante di tutte C applicato a una W è uguale a 0 se per ogni W antisimmetrica ecco queste sono le tre caratteristiche del del tensore elastico vediamo la dimostrazione alcune sono semplici e altre un pochino meno allora intanto la prima è facile noi sappiamo che T cappello di F è J S cappello di F F meno trasposto allora quanto fa T cappello nell'identità fa il determinante dell'identità che è 1 S cappello nell'identità identità meno trasposto e questo è esattamente S cappello dell'identità e quindi se è 0 o noto se sono uguali non c'è nessun problema adesso invece vediamo perché perché anzi questa non è la 1 questa è la 0 la 1 invece vediamo che C è anche il gradiente di T cappello nell'identità quindi diciamo che C non vede S o T anche se le variabili sono diverse dunque noi sappiamo che S diciamo così abbiamo detto è una cosa che aveva scritto sopra quindi da questa discende che S cappello di F per F trasposto è uguale a J anzi scriviamo determinante di F in questo caso conviene per T cappello di F ok allora facciamo supponiamo di fare il differenziale o il gradiente se preferite di questa relazione allora quando io vado a fare il differenziale e lo valuto nell'identità cioè faccio il differenziale di A e il differenziale di B però non li scrivo perché così scriviamo D di A uguale di B però evito di scriverli allora quando io vado a fare quando io differenzio rispetto a F trasposto per esempio e poi metto nell'identità mi viene S cappello di I quindi mi verrà S cappello di I per qualcosa che sarebbe H trasposto comunque va bene ma non importa perché S cappello di I è supposto uguale a 0 quindi questo termine non c'è poi invece c'è invece qualcosa c'è il gradiente di S cappello nell'identità F trasposto e questo quindi c'è poi devo mettere ancora F uguale a I quindi anzi scriviamo giusto I trasposto in realtà questa sarebbe la derivata del prodotto a destra c'è il gradiente del determinante di F calcolato nell'identità e poi c'è T cappello nell'identità che è solo il gradiente del determinante di F lo sapremo anche fare però questo qua è di nuovo 0 e quindi anche lui non c'è e infine c'è quello che ci deve essere cioè il determinante di F il determinante di F per il gradiente di T cappello di F e questo calcolato in F uguale l'identità che quindi fa gradiente di T cappello nell'identità e di conseguenza i due sono uguali perché gli altri termini sono diventati di 0 e quindi la 1 è a posto adesso la 2 è gratis la 2 è gratis perché C è anche il gradiente di T cappello e di conseguenza siccome T è simmetrica vuol dire che C è a valori nelle matrici simmetriche perfetto adesso avviene la parte più difficile la parte più difficile è quella di dimostrare che C è nullo sui tensori antisimmetrici e per questo bisogna fare infatti una un'applicazione che poi andremo a commentare ecco facciamo premettiamo una una cosa prendiamo W quindi una trasformazione antisimmetrica quindi W trasposto è uguale a meno W e consideriamo questa equazione differenziale nello spazio delle matrici Q punto uguale WQ funzione del tempo quindi W è costante Q è funzione del tempo e Q di 0 uguale a I io su Q non so niente non so nient'altro so soltanto che Q appartiene a ohm di R3 e basta e so che W è antisimmetrica cosa posso dire su questa su questa Q ecco si vede abbastanza facilmente ma facciamolo intanto calcoliamoci la derivata del determinante di Q siccome abbiamo appena fatto una volta scorsa la derivata del determinante che era uguale al determinante di Q per la traccia di Q punto Q alla meno 1 ecco perché era il differenziale applicato a Q punto e sarebbe il differenziale del determinante di Q applicato a Q punto no? la derivata lunga una curva è differenziale scalare la derivata dell'oggetto che c'è dentro quindi questo oggetto qua siccome Q è uguale a WQ è uguale al determinante di Q per la traccia di W Q Q alla meno 1 e quindi sarebbe determinante di Q per la traccia di W ma la traccia di W è 0 e quindi viene 0 questo implica che il determinante di Q è costante e siccome poi all'inizio è l'identità si ricorda queste cose dalla meccanica questa Q ha le determinate che è sempre uguale a 1 quindi intanto il determinante non può essere 0 e anzi è sempre 1 poi adesso poniamo Z uguale Q Q trasposto ecco allora se io calcolo Z punto questo mi fa Q trasposto Q punto Q trasposto più Q Q trasposto punto che tanto commutano e adesso attenzione Q punto è W Q Q trasposto e invece qui c'è Q per Q trasposto Q punto trasposto che è W Q tutto trasposto quindi è W Q tutto trasposto quindi alla fine viene W Z perché questo è Z e qua viene Q Q trasposto W quindi viene W trasposto viene meno Z W ecco perché verrebbe Q Q trasposto W trasposto che fa meno Q Q trasposto W sempre perché W è antisimmetrica benissimo adesso abbiamo quindi che Z punto è uguale a W Z meno Z W il commutatore di W Z come piacerà ai fisici e sappiamo che Z di 0 è uguale all'identità perché chiaramente Q è uguale all'identità allora questa equazione è un'altra equazione nelle matrici Z è funzione di T W non è funzione di T il secondo membro è chiaramente Lipschitziano perché è una cosa addirittura lineare e quindi diciamo Z di T uguale l'identità è sicuramente una diciamo Z questo problema siccome è Lipschitziano ammette un'unica soluzione che per forza però deve essere uguale l'identità perché se io metto Z uguale l'identità questa la verifica e quindi da qui discende che Z di T è uguale l'identità benissimo ma allora vuol dire che Q Q trasposto è uguale l'identità e che quindi che Q è ortogonale a lei e questa Q la possiamo chiamare la possiamo definire avete già visto sotto altre forme l'esponenziale di T W ecco è un altro modo di scrivere e questo è anche un modo carino se vogliamo di introdurre l'esponenziale di una di una matrice cioè fare vedere questo vale solo per le ortogonali ma si può fare in generale ecco ma questo è anche uno sviluppo in serie che non ci interessa quindi questa funzione qua questa è la TV è ortogonale benissimo allora adesso andiamo a scrivere quella che sarebbe la indifferenza materiale per il nostro per il nostro per il nostro T cappello allora ricordate che l'indifferenza materiale si esprimeva in questo modo T cappello di QF uguale Q T cappello di F Q trasposto e andiamo proprio a calcolare questa cosa qua per F uguale identità per F uguale identità viene che T cappello di Q è uguale a Q T cappello dell'identità Q trasposto e che fa 0 perché T cappello dell'identità per ipotesi è 0 quindi cosa succede che T di Q è uguale a 0 allora prendiamo per Q prendiamo proprio Q di T quella di prima cioè E alla T W e andiamo a scrivere quindi segue diciamo che T cappello di quella Q di T è uguale a 0 per ogni T e allora facciamo la derivata di questa quantità rispetto al tempo in T uguale a 0 se io derivo mi viene il gradiente di T cappello calcolato in Q di T e poi applicato a Q punto di T e questo ovviamente siccome la funzione è identicamente nulla deve pure fare 0 ma attenzione quando io metto T uguale a 0 qui mi viene intanto prima di mettere T uguale a 0 metto quindi ho il gradiente di T cappello in Q di T applicato a W Q di T perché Q punto verifica W Q di T e W è costante uguale a 0 e a questo punto io se metto T uguale a 0 io ho che Q di T fa l'identità e questo vuol dire che il gradiente di T cappello nell'identità W e Q di 0 fa l'identità è uguale a 0 ma il gradiente di T cappello nell'identità era esattamente il nostro biscottone il nostro C lo chiamo biscotto perché all'inizio mi avevano detto che sembrava un abbraccio e quindi ormai mi sono abituato a chiamarlo biscottone applicato a W diciamo così fa 0 per ogni W antisimmetrica questa terza parte della dimostrazione cioè la dimostrazione della terza parte è importante perché è il sostituto della come si dice dell'indifferenza materiale perché se vedete siamo partiti dall'indifferenza materiale poi abbiamo applicato una rotazione ma ne abbiamo calcolato la derivata nell'origine che è in verità una sorta di rotazione infinitesima se volete se voi prendete una rotazione e fate la derivata rispetto all'angolo rispetto calcolato nell'origine trovate esattamente la stessa cosa e questo è giusto perché siccome stiamo facendo una una teoria linearizzata cioè i spostamenti sono piccoli e quindi anche diciamo così gli atti di moto degli osservatori devono essere piccoli o meglio è coerente che siano piccoli se andate a fare una rotazione finita ecco questa la teoria lineare non risulta materialmente indifferente e vabbè però diciamo ci accontentiamo di questo con questo caso abbiamo caratterizzato un pochino le proprietà generali del tensore elastico adesso andremo a vedere il caso più importante che è quello nel caso isotropo ricordiamoci quindi che la nostra legge era che s cappello di f era diventata c applicato al gradiente di u esatto al gradiente di u e gradiente di u che io posso sempre decomporre è la parte simmetrica del gradiente di u più la parte antisimmetrica del gradiente di u e chiaramente quindi sarà uguale a c applicato soltanto alla parte simmetrica del gradiente di u e questa parte simmetrica del gradiente di u ha un simbolo privilegiato il simbolo e si chiama tensore di green senvenano ecco c'è da dire poi che la questa legge addirittura viene enunciata in questo modo cioè a questo punto c non è più definito sulle su tutte le matrici ma soltanto su quelle simmetriche cioè si ridefinisce la funzione c da sim a sim ecco e quindi diciamo tutto avviene all'interno dei tensori simmetrici naturalmente voi direte sì ma S cappello di F non è simmetrico e non lo è ma è questo ma quello che noi dobbiamo questo nuovo lo è diciamo l'S di F che abbiamo definito adesso è simmetrico non è simmetrico in generale per elasticità finita però diventa simmetrico per elasticità lineare ecco nel caso dei corpi isotropi sappiamo che siccome la la C è una funzione isotropa lineare da quanto abbiamo visto a proposito dell'elasticità finita nel caso lineare questa C deve essere uguale C applicato a E deve essere uguale a una cosa ben precisa ci sarà un una alfa 0 per E alfa 0 per l'identità più alfa 1 per E e basta perché E al quadrato non ci può essere ecco nel caso isotropo E alfa 0 e alfa 1 sono funzioni degli invarianti di E quindi di I1 di E I2 di E e I3 di E nel caso generale però attenzione dobbiamo ricordarci diciamo purché la funzione resti lineare cosa vuol dire questo vuol dire che alfa 0 non può essere funzione di I2 di E perché I2 di E è quadratico e quindi può essere soltanto una funzione di I1 di E ma neanche una funzione non lineare perché se no sarebbe una funzione non lineare di E e quindi deve essere una funzione lineare di E quindi sarà uguale a L volte la traccia di E questa è l'unica possibilità per alfa 0 di essere lineare in E e dipendente dagli invarianti alfa 1 invece addirittura siccome c'è già E deve essere uguale a una costante che viene posta uguale a 2M quindi in definitiva l'S di E l'S di F si scrive come per i materiali isotropi si scrive come L traccia di E per l'identità più 2M per E il 2 per motivi storici e questi L e M si chiamano coefficienti di lame e sono quelli che caratterizzano il materiale elastico lineare L e M possono dipendere naturalmente dal posto possono essere funzioni di X grande mentre invece il materiale è omogeneo sono delle costanti e siamo così arrivati alla determinazione definitiva dell'equazione costitutiva per i materiali elastici lineari vedete molto più semplicemente nel caso delle deformazioni finite o iperelastiche adesso possiamo finalmente anche scrivere l'equazione del moto che sarà un'equazione lineare perché l'unico termine non lineare nell'equazione in forma lagrangiana è quello della divergenza di S cappello il resto è tutto lineare e quindi quello che faremo nella prossima lezione sarà partire dalla cosiddetta equazione di Navier che è quella che si trova facendo questa sostituzione e un po' di qualche elaborazione dopodiché vedremo alcune delle sue tante soluzioni e il legame che possiamo fare con gli esperimenti perché anche qui ci saranno degli esperimenti che potremmo fare ma soltanto con piccoli gradienti di deformazione e determinare dei legami con i coefficienti di lame che invece sono delle quantità astratte perché quelle sono escono diciamo così da un teorema ma tutto questo lo vedremo nella prossima lezione tanto grazie dell'attenzione e arrivederci